Ci sta chiamando dallo spazio. Non credo di avere qualche minuto. Come ha detto di chiamarsi, Austin? Mi chiamo Grace. Tom, può dirmi cosa sta succedendo lì? C'è qualcosa che posso fare per aiutarla? No, a meno che non sappia curare la sindrome acuta da radiazioni a 480 km di distanza. Radiazioni. Signore, mi dispiace. Tranquilla. A terra avete l'atmosfera che vi protegge. Grace, una cosa che può fare per me in realtà. Casa Scanlon. Lei è Marissa Scanlon? Sì. Signora Scanlon, ho qui suo marito in linea. Ma è impossibile, mio marito è... Marissa, Tom! Non ho molto tempo, devi ascoltarmi, ok? Ricorda, tutte le informazioni su banca e assicurazione sono nel computer. Sono nella cartella robano user, lo so. Chi succede? Perché stai? Oh, Tom. Sì. Eh, papà! Sì? Vieni a salutarlo, tesoro. Ciao, babbino! Ciao, Ivy! Mi manchi! Anche tu mi manchi, amore. Quando torni a casa? Darei qualunque cosa per essere lì con te, adesso. Lo sai, vero? Ma non sei neanche su questo pianeta! Ivy, mi fai una promessa? Promettimi di fare ciò che dice la mamma e dalle una mano quando ne avrò bisogno. Te lo prometto. Bene. E voglio anche dirti che vi amo tanti. Moltissimo. Più di qualsiasi cosa. La mamma sta piangendo. Non è vero. Non sto piangendo. Guarda fuori dalla finestra. E saluta il cielo. Perché non posso venire qui? Ma io sì. E voglio anche dirti che sarò per sempre lì. A vegliare su di te, d'accordo? Sì, papino. Ti sto salutando. Ti sto salutando anche io. Mi fai ridere? Papà? Dove sei? Papino? Papino?